Hai un nome? Sono felice di conoscerti. Non ho mai conosciuto una come te. Io e te siamo in una situazione simile. Quindi, abbiamo bisogno di rompere il ghiaccio. Sai che significa? Che cosa voglio dire? Superare l'iniziale disastro sociale. Cerchiamo di fare conversazione. Di che cosa vorresti parlare? Perché non mi racconti qualcosa di te? Qualunque cosa ti fassi per la testa. Quando hai imparato a parlare, la lingua è un qualcosa che le persone acquisiscono mentre tu... Alcuni ritengono che la lingua esista dalla nascita. E si ha la facoltà di unire... E parole, e struttura, e capacità latenti. Tu cosa ne pensi? Non lo so. Tornerai domani. Sì. E' stato. E' stato.